Ho comprato queste palline vegetali che vengono dal Giappone, si chiamano credo Marimo, in un negozio di animali e di gamberetti, in particolare ero colpito dai gamberetti, i gamberetti piccolissimi, blu, che vengono dall'Asia, e queste sono vegetali che sono come delle spugnette, le puoi prendere in mano e sembrano di cartoon, incredibile. Mi diceva la ragazza, la venditrice, che generano, si ripropongono, si riproducono. Fantastico. Due creature viventi, poi mi diceva che sono di moda, non lo sapevo, tutta la rete ne parla, io non ne sapevo nulla. Comunque mi piace moltissimo. Fantastico. Ah sì, portano fortuna in amore, dice, se le regali o... Io mi porto fortuna, le ho prese, quindi portano fortuna a me. Infatti, mi ritengo fortunato. Grazie. Grazie. Grazie.